5 cose che forse non sai sulla Abarth.evo Su Base.ss furono allestite due versioni speciali la versione Scorpione Nero prodotta in 99 esemplari con carrozzeria Total Black con cofano e tetto neri opachi pinze e brembo all'anteriore da 4 pistoncini vernicetti di giallo e interni sabbi specifici e la versione Super Sport con carrozzeria bicromo dedicata e assetto coni FSD Il motore Turbo Multi Air da 1368cc sviluppa 165 cavalli a 5.500 g di minuto e 250 Nm di coppia a 2.500 in modalità Sport selezionabile tramite il manecchino all'interno Come tutte le grandi Punto Abarth anche questa è stata prodotta nello stabilimento di Melfi in Basilicata In Europa uscì di produzione nel 2014 ma in India ne fu prodotta una versione speciale a partire dal 2015 solo in carrozzeria 5 porte In Brasile invece su telaio Fiat Punto 188 quella ne fu prodotta un'altra versione speciale con motore 1.8 mai visto in Europa rispetto alla grande Punto Abarth che sostituisce qui troviamo un cambio a 6 rapporti C635 con innesti accorciati Seguici per altri contenuti come questo qua